Il Pena Fiel Siamo in casa, le maglie vanno bene Tempo sereno, ottimo, giochiamo con Pereira Ebrahimi è tutto pronto Il Kun è pronto a stupire Forza Kun, forza Porto Prima partita di questo episodio E ascoltate Può cominciare Porto Penalfiel Andiamo a guardare la classifica e poi cominciamo immediatamente la sfida Siamo primi a 57 punti Il Penalfiel è 18esimo, soltanto 5 punti Non possiamo farci sfuggire questa vittoria Si comincia Lancia avanti per il Kun, bella palla, posizione regolare Kun Dispa Se la alza, se la porta avanti La mette dentro Brahimi non ci arriva Jackson Martinez Per il Kun, largo Kun Dispa, il numero La mette in fondo Catroia Josue per il Kun Kun si gira Serve Herrera Movimento del Kun, tra le linee La palla non gli arriva Herrera dentro per il Kun Resce a girarsi La palla sul destro Cosa ha preso Pereira Junior? No, no Ma come fai a fare un intervento del genere in aria? Come fai? Ammonito, nostro difensore centrale e anche capitano Non si fanno ste cazzate, no Dai e portierone Non voglio guardarlo Dai Dai, dai portier Dai e portier Dai, dai, dai 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 Ma va Fanculo Niente da fare La rete L'avversario Centrale La trasformazione a rigore Per Francisco Carrillo Battistau E la madonna quanti nomi O pare Kun Dispa Dentro per Josue Josue largo per Riccardo Kun si butta dentro Neanche un cross decente Neanche uno Finisce col primo tempo 1-0 Magari 0-0 Per il Penafiel Si va la ripresa Dentro per il Kun No Grandissima rete del Kun Di testa Sbam Un pugno alla bandierina L'1-1 E il pareggio del Kun Ottio il movimento Centrale Poi di testa Con Dispa Da lì Non può sbagliare Grandissimo gol Di testa 1-1 Terzo centro Bruno No Fermatelo Bravo Fabiano Non è la fallo Ve lo giuro Non l'ho toccato Movimento centrale del Kun La palla per lui Girati Vai sul destro Dai 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 Non ci credo Calcio d'angolo 89esimo La palla è alta Kun Dispa Non ci arriva voi Tirate Ne ha troppi Risaltarle Mettela dentro Ancora calcio d'angolo Manca poco Cross dentro Kun Dispa E' dentro E' dentro Non ci credo E' dentro Non ci credo Esplode Lo stadio Il Kun Doppietta per lui Rivediamo Calcio d'angolo Parla alta Il Kun la mette sotto All'incrocio dei pali Mamma mia E' arrivato proprio alla fine Il vantaggio del porto 2-1 La doppietta Oh oh Via 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 Madonna quanti primi Occhio Via palla Via 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 dai 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 Ma è vacca traio Quanto tempo per Oh si è fatto male Per terra Sportività zero Via Via palla Dai 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 Occhio Via Che culo Raga Bianchi ha tirato un calcio Lui era infortunato Ma l'importante E' aver vinto 2-1 Il porto continua A sognare Lo scudetto Allora Andiamo a leggerle email Il giocatore impegnati Il mister non ci convoca più Jose Angel Cinque giorni In contusione al gomito E' Carlos Eduardo Tre settimane Legione al tendine del ginocchio C'è la partita contro Il Fosburg Non so se ci faranno giocare Perché comunque Ho dato veramente tanto In questa partita Ero davvero stremato A fine partita Quindi magari Data la stanchezza Infatti non ci faranno giocare Gioca Jackson Martinez Titolare insieme a Kelvin e Lika Se magari vai avanti Ok Perfetto Allora Fabiano Pare Maicon Indy Martis Indy Pereira Herrera Josue Chintero Kelvin Martinez Lika Occhio 2-1 Allora c'è la partita contro il Maritimo E giochiamo Titolari Allora siamo in trasferta La maglia Usiamo questa Fa paura Contro la bianca Tempo nuvoloso Giochiamo con Kelvin e Braimi Titolari Andiamo immediatamente al match Forza Porto E forza Gug Eccoci qua Maritimo Porto Al Molto rude Allora classifica Maritimo l'ottavo 30 punti Noi abbiamo Precisamente il doppio Perché noi abbiamo 60 E siamo primi Alla nostra spalla c'è lo Sporting E poi il Benfica Andiamo immediatamente al match Non perdiamoci in chiacchiere L'importante E vincere Anche questo match Buona partita Braimi Lancio per il Kun Bella palla Con Ispa Col Mancino La parata è Giusezza Calcio l'angolo battuto La palla è alta Vai Porter Bravo Fabiano Adesso rialzati Si è fatto male Fabiano No sono Cosa fate? Dentro per il Kun Che non ci arriverà mai Carlo Seduardo 1-0 Porto Inaspettato il vantaggio del Porto Prova il 45esimo Io Dato che non ci arrivavo più Continua a premere il cerchio E quindi ha tirato Al volo Carlo Seduardo Che la mette dentro 1-0 Porto L'importante Essere passato in vantaggio Un dispa La mette giù Ancora il Kun Numero Serve Kelvin Kelvin Entra per il Kun Entra in aria Bravissimo Vai col sinistro Vai Final Finalmente Finalmente Vaccaeva Ci ho messo 90 minuti Per segnare in questa partita Finalmente Ci sono riuscito Terzo gol in due partite per noi Col Mancino Palo gol E finisce qua Il Porto Vince anche in questa seconda partita 2-0 Contro il Maritimo Ottimo ragazzi Occhio Dobbiamo continuare A vincere Perché Non possiamo Farci scappare Lo scudetto Ah Giosuè Ok Sette giorni Va bene Allora C'è la partita contro Vediamo se si fanno giocare Ma penso di sì No Gioco a Jackson Martínez Contro la Ruoca A Ruoca Giocami in casa Dai Dai Una vittoria secca Tipo 4-0 Dai Dai 4-1 Raga Ma che giro sono Però 4-1 Va bene Che è il doppietto No Gol di Kelvin Doppietto di Martínez Gol di Daim Kelvin Martínez Scusami Non esagerare Raga Non giochiamo con lo Sporting Non ci credo Non ci credo No Due partite consecutive Mi pensa a giocare No 1-1 Non segniamo a Martínez Godo Pezzo di merda Godo Lo scontento che intero potrebbe partire Qui non siamo riusciti a fare gli obiettivi Siamo riusciti a segnare Un obiettivo su 4 Ma vaffanculo Peccato che non ci ha fatto giocare Qui 9.0 4 gol È il 60% Contro Morey Rense Pacos Ferreira Vittoria Guimaraes E Boavista Qua giro No non giochiamo neanche No raga Non ci credo No non mi dite che ho perso il posto contro Martínez Perché Ti spaccano un ginocchio Martínez Segna ancora Martínez 3-1 Con dispa Ne faccio 50 di gol in questa partita Non posso perdere il posto Siamo in casa Le maglie vanno bene Tempo sereno Giochiamo con Brahim e Kelvin Voglio distruggere il Pacos Ferreira Porto Pacos Ferreira Terza ed ultima partita di questo episodio Dobbiamo assolutamente segnare E anche tanto Perché abbiamo perso il posto E Dali di Martínez E dobbiamo riconquistarlo Siamo primi a 60 punti Secondo Quattordicesimo In Pacos de Ferreira A 30 punti Ci dividono 40 punti Non possiamo non segnare Vai si cominci Vai Herrera Davo Herrera Lanciami Bella palla per me Dai Dai Kun Dai che sei da solo Piazzala col testo Ma vaffanculo Braichi intero Dentro Per Kundispa al volo Cosa mi ha preso Ma cosa ha preso Bravo il Kun che recupera la palla Lika Il lancio per Kundispa Si butta avanti la palla Corre Velocissimo Kundispa Uno contro uno Lo salta Da solo Da solo Mi sa Lika Dentro per il Kun Puoi si arricolare Kundispa in aria Kundispa Niente da fare Sono stanchissimo Finisce qua Purtroppo è andata così 0-0 Non siamo riusciti a segnare Abbiamo giocato una buona partita Siamo stati sfortunati Ce li faremo nel prossimo episodio Allora vediamo se nella prossima partita Il mister ci farà giocare Contro il Guimaraes Non ci fa giocare Perché gioca Jackson Martinez Che palle Adesso lui segnerà No godo un botto Uno a uno Finisce Attenzione perché abbiamo pareggiato le partite consecutive Speriamo non siano problemi in classifica dopo Allora neanche contro il Boavista il mister ci fa giocare Che palle Non ci posso credere ragazzi Non ci posso Stiamo perdendo un sacco di opportunità Il mister segna per fortuna Cioè vinciamo Segna anche Martinez Non per fortuna Altra partita Allora qua naturalmente Obiettivi niente Che schifo Ci ha fatto giocare solo una partita su 4 C'è una partita col Benfica Sarebbe stupendo giocarla Tra i partiti Siamo a maggio Finisce il campionato nel prossimo episodio Lurico Contro il Benfica non ci fa giocare Ma lo scopriremo nel prossimo episodio Come finirà La classifica siamo secondi Mi hanno perso anche i punti Questo qua è sconto diretto contro il Benfica Quindi come andrà Andrà lo scopriremo nel prossimo episodio Allora ragazzi Adesso il video è finito Vi chiamo Marcio di lasciare sempre un bel pollicione Non solo i quelli giganti Perché il pollicione è molto importante Un bel commento Facetemi sapere cosa ne pensate di questo episodio Facetemi sapere se rimanere ancora un anno al porto Andare via Vedremo E inoltre Se lo avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Condiviate il video Aggiungetevi ai preferiti Passatele dai social qui sotto In descrizione Facebook, Instagram e Twitter E noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Grazie a tutti